Viterbo si aggiunge alla lista dei centri più a rischio per il caldo torrido che continua a interessare l'Italia in un mix di afe e umidità. 17 le città oggi da bollino rosso a causa dell'anticiclone africano Nerone con temperature oltre la media del periodo dai 5 agli 8 gradi che non risparmiano neanche le montagne. Per poter avere una tregua bisogna attendere però il weekend grazie a un fronte atlantico che transiterà sull'Italia portando forte maltempo dal primo al nord e dopo il 30 anche al centro sud.